Vellano che ha parlato con Catanzaro, ha fatto questi gol, ha fatto cinque sconfitte, a mio me ne fanno una mazza, perché una volta si diceva che il Palermo non passa lo straniero, oggi io dico, sperando io, mormorò, e dicherò che oggi non passa lo straniero, e Luca Catanzaro si andava con le tive nel sacco, perché stiamo trovando la quadra, quella che io mi auspicavo domenica e fase, e ci ho sempre detto, oggi il Palermo, il suo dovere è quello di migliorare partita dopo partita, e lo sta facendo, e poi c'è una cosa, sono sicuro io, come io, Catanzaro ci ho fatto spettacolo, ho fatto dei film, c'è questo grande ponte, Morando, ho fatto pure Morando, come credo di Genova, là c'è un grande vento, infatti Palanca faceva il collo con Catanzaro, che era Palanca, non Catanzaro o non Cosenza? No, non Catanzaro lo parlo. Catanzaro, 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 sì. Il Catanzaro quest'anno è stata una folata di vento, adesso il vento si è abbassato, quindi Catanzaro a noi non ci toglie, non ci, non ne preoccupa, sei andato a Frischi 3-1, io mi forsevo 2-3-1, quindi 3-1, la settimana scorsa, l'ultima partita, se sono distruttato, Frischi 3-1, con la Tudes abbiamo vinto 2-1, e oggi facciamo 3-1. Dispone, dispone per di bellare, ma te chi è il suo gol? Ma tu faccio il mio fan, basta che...